Sarà una prima nazionale quella di Chi vive giace al Teatro Biondo, testo inedito di Roberto Elaimo, messo in scena da Armando Pugliese e interpretato da David Coco, Roberta Caronia, Roberto Nobile, Stefania Blandeburgo e Claudio Zappalà. Una black comedy in cui una giovane donna perde la vita a causa della guida distratta di un ventenne. Un fortuito incidente automobilistico che innesca una querella familiare tipicamente siciliana, dai toni surreali e dall'esito imprevedibile. Una commedia ambientata in un'immaginaria Sicilia dove i morti vengono a interagire con le loro famiglie d'origine, specialmente le due donne che sono il vero motore dell'azione scenica, sono due fantasmi che interagiscono con grande naturalezza però con i loro familiari. Come fanno i morti? In genere danno i numeri, qui in questo caso purtroppo al Maritino non diamo i numeri ma diamo delle suggestioni su come agire. Colloquiare con la morte è abbastanza strano, anche se poi in realtà credo che sia la cosa più naturale di questo mondo, è quello che noi facciamo sempre un po'. Il concetto della morte è sempre presente nella vita, cioè in chi vive. Ed è così, il palcoscenico è il luogo ideale per fare questa operazione in cui pareva vero, è vero, si sogna, c'è una magia, c'è la morte, c'è la vita, c'è un recupero, e questo è tipico anche dello stile dell'autore che conosciamo bene, un recupero di una lingua che viene cambiata, sublimata. Appuntamento a venerdì 18 gennaio quindi, con repliche fino al 27 per poi partire alla volta di Napoli e Siracusa. Nel frattempo conto alla rovescia per il nuovo direttore artistico del Teatro Biondo, il mandato di Roberto Alaimo che alla conferenza era presente in qualità di autore, è scaduto già da qualche settimana. Verranno analizzati dei curriculum, novità nella storia del teatro. Un nome era già uscito nelle scorse settimane, Giuseppe Di Pasquale, ex direttore dello stabile di Catania, si attendono sviluppi.